Quando si approccia alla tematica dei diritti umani bisogna sempre stare attenti a non cadere nell'errore di andare a vedere soltanto quella che si chiama la law in the book, ma al contrario bisogna stare attenti a consigliare in più e soprattutto la cosiddetta law in action. In altre parole, quando si tratta della tematica dei diritti bisogna tenere presente l'insegnamento di chi ricordava che nel XXI secolo il problema non è più quello di sancire diritti in astratto ma di riuscire ad andare a tutelarli in concreto. Se questa è la filosofia di fondo che bisogna seguire, andare ad analizzare la tutela della libertà di stampa e più in generale la libertà del sistema di informazione richiede di partire ricordando alcuni episodi di cronaca non particolarmente commendevoli. Mi riferisco in primo luogo al recente caso delle elezioni politiche turche a quattro giorni dalle quali il presidente Erdogan ha deciso di assaltare la sede di uno dei maggiori gruppi editoriali turchi oppure anche al caso noto, triste, della giornalista politoscaia la quale viene uccisa dal regime russo in conseguenza del suo importante giornalismo d'inchiesta o allargando il focus ad altre forme di libera manifestazione del pensiero e di libertà anche dell'informazione alla poderosa struttura di controllo della rete internet posta in essere dal governo cinese. Ora, al di là di questi singoli episodi di cronaca, se vogliamo fare un'indagine più specificamente giuridica sull'impatto per quanto concerne la libertà della stampa del diritto sovranazionale e quindi del diritto dei diritti umani, non possiamo però non vedere come il contributo e del diritto sovranazionale e delle corti sovranazionali sia stato comunque da 30 anni e questa parte comunque significativo. Sia stato significativo in primo luogo per la tutela di quanto posto in essere dai singoli operatori del sistema dell'informazione. Pensiamo alla garanzia per il singolo giornalista nella tutela della segretezza delle sue fonti di informazione oppure anche alla libertà del giornalista di riferire testualmente il contenuto di un'intervista senza dover operare un giudizio di merito o dissociarsi dal contenuto della medesima qualora questo sia in qualche misura o contra legge o di contenuto razzista non particolarmente commendevole. O ancora un caso molto più recente del diritto del singolo giornalista di utilizzare un'apparecchiatura come una telecamera nascosta o un microfono nascosto e quindi di non essere particolarmente leale nei confronti del soggetto intervistato laddove le condizioni dell'intervista facciano suggerire, dovessero suggerire questo genere di comportamento. Si tratta quello della libertà del sistema di informazione è soprattutto poi particolarmente sensibile a un punto di vista politico e qui ancora una volta la Corte Europea dei Ditti dell'Uomo sin dall'86 ha sancito una particolare libertà del singolo per quanto riguarda l'ambito della critica politica. Al di là dell'impatto del diritto sovranazionale però bisogna anche ricordare come la strada da compiere sia ancora lunga anche per paesi non certo autoritari. Ad esempio il nostro paese è stato giudicato 73esimo da reporter senza frontiere per quanto riguarda la tutela e la libertà della stampa e per via delle pressioni della comunità organizzata e per via soprattutto delle pressioni del sistema politico. Grazie. 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 Grazie.